Il nostro gruppo di lavoro ha come obiettivo lo sviluppo di software in grado di fornire un feedback al soggetto riguardanti l'analisi posturale e l'analisi del movimento e potranno essere utilizzati in campo preventivo e rieducativo volti alla riduzione di fattori di rischio riguardanti le patologie muscoloscheletriche. Questi software si basano sia su tecniche markerless tramite machine learning per riconoscere dei punti di repere sul corpo del soggetto, sia su tecniche che con marker ottici per ottenere dati più accurati. Sono stati sviluppati in diversi linguaggi come il CPU, JavaScript e Rustia su diversi framework per adattarsi ai vari casi di utilizzo. Con i nostri software di analisi di dati abbiamo la possibilità di estrarre informazioni preziose per ciascun utente. Questo significa che non solo riusciamo ad analizzare in modo accurato i dati, ma siamo anche in grado di fornire report personalizzati in formato PDF. Questi ultimi possono essere utilizzati nella fase di decision making di un gruppo di lavoro.